Sapete come dice sempre Allegri? Come dice? E adesso sono cazzi nostri, adesso sono veramente cazzi nostri, no ma davvero sono cazzi nostri E si arriva ragazzi, siamo arrivati a quella partita lì, siamo arrivati a quella partita lì che ti passa mezza stagione forse anche di più Considerato appunto il fatto che alla fine se te tante volte tu c'hai, tu riuscissi a passare, tu c'hai a giocare una partita che sarebbe la finale Però, prima di cominciare ragazzi, voglio fare una premessa doverosa Perché ho visto che più di una persona, di solito quando mi scrive solo 1, 2, 3 persone massimo non è Però mi sono arrivati diversi e quando parlo di diversi intendo anche più di 10 messaggi Su Instagram, che come sempre trovate in descrizione di ogni video Non so se avete visto i miei video precedenti e anche seguito le partite in generale della Fiorentina Ecco, insomma, non penso di essere stato l'unico a, diciamo, attaccare in maniera ovviamente di prestazione sul campo questo giocatore I miei commenti personali sulle partite di Sottil Sono arrivati tanti messaggi appunto sotto, nei direct di Instagram Che mi dicevano nel senso lollo basta, nel senso anche meno, anche meno Allora ragazzi, proprio parliamoci seriamente Primo A me piace, nel senso, fare i video per farvi ridere E deve essere una cosa per fare ridere Perché in realtà io non sono un personaggio, io sono così nella vita reale Poi a me mi piace enfatizzare Quando ovviamente parlo di prestazione sul campo, rimangano le prestazioni sul campo Quando dico, te, devi andare a fare in culo l'anno prossimo Si intende della squadra Perché venuti, io non l'ho mai voluto, per esempio, facendo un esempio di anni fa Attaccare, osare, non mi è mai stato sul cazzo Anzi, ero sempre il primo a sostenerlo Però ero un mediocre del cazzo in campo Ed è stato giusto che Insomma, la sua dipartita, tra virgolette, dalla Fiorentina Sottiluguale Sottiluguale È un giocatore che, come ho sempre detto Idem per Zola, che poi adesso se ne parla appunto Per il fatto della non convocazione Sono il primo a sostenere tutti i miei giocatori in campo Tutti quanti Tutti Tutti Dal primo all'ultimo All'ultimo Perché portano la maglia della mia squadra Addosso Però Quando ci sono delle prestazioni del genere in campo, ovviamente È giusto anche rimarcare il fatto che uno sta facendo schifo Nei modi che uno più gli piace A me Per me È molto più comunicativo fare così Se poi a te non ti piace Non importa Cazzi tua Ti disiscrivi Vai via Non ti piace il video Non lo guardare Non sei obbligato Ok? Poi sono d'accordo con voi Per qualche d'uno magari può risultare, tra virgolette, una cosa offensiva Io Sottile Non lo vedrà mai questo video Però Riccardo Non 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 mi stai sul cazzo Ok? Cioè nel senso Anzi Sei un giocatore della Fiorentina Cioè io Se riuscissi Non ti ho mai visto di persona Se riuscissi a vederti Ti stringerei assolutamente la mano Ti direi Non sei un grande Così Cioè nel senso Però il campo stai facendo schifo Possiamo ammetterlo Possiamo dirlo che Da diverso tempo stai facendo veramente cacare Ok? Fine premessa Adesso si parla della partita Allora ragazzi Non so se avete visto quel fatto Convocati Non convocati Perché è la cosa diciamo che più ci interessa Per la partita di domani La squadra è partita oggi Verso le tre e mezzo Da campo di Marte A me è capitato anche di vedere Un tamarrissimo Dodò Con un porcino nero Passare per Viale dei Mille Che Segno di intesa da lontano Con un saluto Quindi Bravo Dodino La squadra appunto è partita E quindi stanno andando in direzione Bergamo In realtà penso siano già arrivati Per quanto riguarda appunto Il fatto dei convocati Abbiamo visto nella partita con la Salernitana Italiano in generale Ha mantenuto la maggior parte Delle riserve in campo Proprio per preservare tanti giocatori In primis perché tanti non c'erano Qualcuno per infortuna Qualcuno per scelta tecnica E altro appunto Per mantenerli in generale Per la partita di Bergamo Solo uno In realtà ci si aveva paura Che più giocatori Non potessero essere presenti Nella partita di ritorno Contro l'Atalanta Ma in realtà solo uno rimarrà fuori Un balanzo là Io ho fatto anche lì Un mio commentino su Instagram Che anche lì mi è arrivato un messaggio Quindi non si può veramente più dire un cazzo Neanche di quelli che fanno cacare Io ho detto Un zola che non c'è È solo un plus Non è una cosa negativa Però si fa per ridere ovviamente L'unico appunto a mancare Per la convocazione di domani Mi sarebbe stato molto più sul cazzo Se non ci fosse stato Per esempio un Beltrano Un Buonaventura Un Nico Un Belotti anche per dire Vabbè Insomma ci siamo capiti Quindi Partita di domani ragazzi Come ho già detto Nelle puntate precedenti Io Mia personale opinione Non penso che domani Si riesca a passare Perché l'Atalanta È veramente troppo superiore a noi Nelle ultime partite Ha dato veramente tutto E ha dimostrato Anche a livello europeo Di essere Posso sbilanciarmi La seconda miglior squadra Della Serie A La classifica non rispecchia La loro posizione in campo Ma dopo l'Inter L'Atalanta A livello di squadra Progetto così Anche giocatori Che ha Qualcuno in particolare E ultimamente Anche a livello di rendimento Per me personalmente È la seconda squadra Della Serie A Dopo l'Inter Proprio perché Quando vogliono giocare Come sanno loro C'è cazzo che tengano Cioè Anche lì Liverpool Il Liverpool Il Liverpool Che è il primo Insieme ad Arsenal E Manchester City Stanno a un punto E tre punti Insomma Per contendersi la premia È stato asfartato Asfartato Ad Anfield Poi ovviamente Il ritorno L'Atalanta Ha cercato Una partita molto più conservativa Perché giustamente Il Liverpool Era tutto all'arrembaggio Perché chiaramente Cioè nel senso Non c'hai più niente da perdere Dopo che ti arrivi Da un'andata di 3 a 0 E cazzo se ne frega Di andare tutti in attacco Solo così Puoi cercare di rimontare Uno magari Mi potrebbe dire Eh ma la partita in Monza Sì hanno vinto Ma Gli è andata anche di culo Perché comunque In Monza Poteva pareggiare Al 96esimo E non è successo Benissimo Sono d'accordo Comunque hanno vinto Comunque hanno vinto Senti gli urli Robe Con questo cazzo È un dominio Comunque hanno vinto Hanno vinto La squadra è veramente Più forte di noi Parliamoci chiaro ragazzi La squadra È molto più forte di noi Parecchi dei nostri singoli Che erano tra virgolette Un nostro Punto fermo Soprattutto Soprattutto mesi fa Sono andati in un down L'amoroso Uno su tutti Arthur Perché Arthur ragazzi All'inizio dell'anno Era forse Voglio esagerare Insieme a Bonaventura E a Nico Gonzales All'inizio dell'anno Quello migliore Per rendimento? Forse insieme a Martini Martini e Squarta A caso Top E adesso invece È un boh È un boh Idem è anche Bonaventura Infiliamoci anche lui Per carità Le fa le sue buonissime partite Anche da quando è tornato Però parliamoci chiare È proprio un'altra cosa Rispetto ai rendimenti Dell'inizio dell'anno Idem è Martini e Squarta Ma Nico Gonzales Ovviamente Proprio su tutti Su tutti questi Però sotto Arthur Comunque Mentre l'Atalanta Alti e bassi Però adesso Nell'ultimo periodo Molti più alti Che bassi Insomma Quindi A parte per esempio Un rocambolesco Pareggio col Verona Dopo essere stato Nel primo tempo 2-0 Però insomma Capito Cioè non è che Cioè se L'Atalanta A Bergamo Decide di fare L'Atalanta E sono grossi cazzi Poi tu mi dici T'hai un gol di vantaggio T'ha ragione T'ha ragione Si parte noi in vantaggio Però io la voglio giocare Come se si fosse 0-0 E poi come va va E poi come va va Devo essere sincero Poi come va va Poi stasera appunto Si vede Chi Chi arriva in finale Tra Juventus e Lazio Anche se Più o meno Il risultato È abbastanza scritto Se la Juve decide Di fare una partita Tipo quelle contro di noi In cui si chiude Tutta dietro La Lazio Potrà fare anche il giusto Per fargli 2-3 gol Ma quando mai Poi magari stasera Passa la Lazio Però insomma Poi vedremo Devo essere sincero Ragazzi Come ho detto all'inizio Non sono molto positivo Poi però Liberissimo di smentirmi Anche perché poi Se te vai a fare una finale A prescindere L'anno prossimo Con la nuova Diciamo Formula Della Supercoppa Introdotta L'anno scorso Partecipi a prescindere Al tuo pensamento In qualunque altra Competizione Campionato Alla Supercoppa Quindi tante le volte Ti va malissimo Non arrivi neanche In una posizione europea In campionato La conferenza E tu vesci in semifinale Con i Bruges Così Però magari Ti arrivi in finale Battendo la tanata L'anno prossimo Ti va già la Supercoppa Tu dici Sì che Che culo Insomma T'ha ragione Però Lascia fare Meglio di nulla Fatemi sapere ragazzi Un pronostico Se vi va ovviamente Di farmelo O almeno Un vostro pensiero Penso che sarà Una partita Veramente difficile Veramente Veramente Difficile Siamo stati Anche un po' Sfortunati All'andata Perché Contro come sempre Si trova Gesù Neuer Nel suo momento Prime Perché ragazzi Arrivare a Bergamo Con un 2 Un 3 a 0 Eh Sarebbe stata Un'altra cosa Solo uno Ci siamo capiti No Solo uno Un dio Le come partita 0 a 0 Ma quasi Non dico nient'altro Ci si vede domani Nel post partita Sperando Sperando che sia Una serata Da ricordare Per poi Andarsi magari A giocare Un'ipotetica Finale Un'altra Sempre Forza Veola Ragazzi Ci si vede domani Mi raccomando Bocca al lupo A tutti In generale Ciao Ciao